Musica Ben ritrovati, buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa Occhio ai Giornali L'appuntamento con l'informazione di prima mattina alle 7.30 in diretta su Fano TV, canale 17 del Digitale Terrestre Cominciamo dal Santo di Oggi, vediamo subito il Santo della Chiesa di Oggi Oggi è Santa Maria Goretti, il sole sorto alle 5.32 e tramonterà alle 20.53 Il tempo sarà tempo buono stabile per tutta la giornata di oggi, giovedì 6 con temperature in lieve aumento Anche domani tempo buono e stessa fotografia, stesso tempo per il fine settimana, sabato e domenica Tempo soleggiato con temperature in lieve aumento, il mare sarà poco mosso Bello il tempo anche nei primi giorni della prossima settimana Abbiamo il sole, abbiamo il mare, però non tutte le città, in questo caso apriamo la pagina di Fano del resto del Carlino Tutte le città sono pronte ad accogliere i turisti come dovrebbero E c'è un parmense, un ex dirigente della Parmalat che è stato intervistato da Tiziana Petrelli sul resto del Carlino E Angelo, questo signore, dice sostanzialmente che, insomma, Fano è carina, Fano ha un bel mare I fanesi sono cordiali, simpatici, tutto quanto, però, insomma, musei chiusi, gli alberghi sono scalcinati Insomma, l'accoglienza è un po' così, lascia desiderare E dice, organizzatevi meglio E dice anche, in Romagna si spende meno, molte delle vostre strade sono in pessime condizioni Insomma, c'è una recensione impietosa su quella che è la città di Fano da parte di questo angelo, da parte di questo turista Questa notizia la trovate sulla pagina di Fano del resto del Carlino Poi, la storia, la vicenda, la vicenda di una donna che si era andata a rifare il seno da questo dottore Gianluigi Orazzi E che a un certo punto però ha avuto un problema Il seno scoppia, il chirurgo adesso è finito a processo Lui dice, l'intervento è riuscito, non so cosa sia successo al seno di questa donna, di questa paziente E perché ci sia stata una fuoriuscita di siero dopo sette mesi Forse si tratta di una ciste, fatto sta che adesso c'è una causa in corso E lui parla anche, il dottore parla anche di una crisi che è arrivata anche nel suo campo, nel suo settore Anche sulla chirurgia estetica si è abbattuta la crisi Ora facciamo al massimo tre o quattro interventi al mese Prima invece erano almeno dieci Invece realizza un sogno, questo signore che vedete nella fotografia Si chiama Mario Donati, ha 65 anni E sette anni fa è stato colpito da una grave forma di ischemia celebrale E dopo aver lottato a lungo per la sua stessa vita Ora versa in condizioni fisiche difficili E così che cosa è successo? È successo che ha chiesto di poter andare a Collevalenza Collevalenza dove c'è il santuario dell'amore misericordioso In provincia di Perugia, nel comune di Todi E dove c'è una vasca con dentro dell'acqua Una vasca chiamiamola così per semplificare un po' Purificatrice In cui i pellegrini, soprattutto quelli malati Cercano la grazia da parte del signore E che cosa è successo? Che grazie ai colleghi c'è stata questa raccolta fondi Che permetterà appunto a questo 65enne di fare questo viaggio a Collevalenza Da Sant'Angelo in vado invece il sindaco del paese Gian Alberto Luzzi Che è indagato e c'è in un'inchiesta per truffa Dice adesso io non mi dimetto Tira dritto, la maggioranza, dice il sindaco, mi ha confermato la sua fiducia Come imprenditore invece sono sereno Mentre oggi a Cattolica c'è l'ultimo saluto A Pier Maria Salvadori, l'imprenditrice delle autolinee Sarà Cattolica, l'ultimo saluto a un imprenditore di larghe vedute E sempre vicino a Carpegna Pier Maria Salvadori Scomparso, chiedo scusa, non è un'imprenditrice È Pier Maria, quindi un uomo L'imprenditore, i funerali saranno oggi, pomeriggio, alle 16 Nella chiesa di San Benedetto a Cattolica E Pier Maria Salvadori è scomparso a soli 65 anni A Fossombrone invece Fantasmi all'ospedale Il racconto di una 63enne casalinga Che ha avuto un piccolo incidente in casa Ha sbattuto contro lo spigolo di una porta E si è fatta male ad un sopracciglio È dovuta andare all'ospedale Ha dovuto far ricorso ai medici Dice lei aveva una ferita al viso Mi hanno mandato da Fossombrone fino a Durbino Lei deve farsi dare due punti E a Durbino le hanno detto Le mettiamo un cerotto speciale E per metterlo ci sono volute ben 5 ore Tutto questo di notte Nella pagina di Durbino Invece del resto del Carlino Parliamo di Università Edificio delle Suore di Via Oddi Ideale per ospitare studenti stranieri È in vendita questo edificio da anni Ma adesso a cifre diciamo un po' più abbordabili La gente immobiliare delle Pievenerini Dice l'Ateneo e la città Non perdano questa occasione La fotografia di questo immobile di Via Oddi La vedete nella fotografia È delle Suore Pievenerini Mentre nel tondo il Carlino pubblica L'immagine dell'agente immobiliare Roberto Edera Cambiamo giornale Anzi sì cambiamo giornale Ma restiamo un attimo sulla pagina di Urbino Siamo sul resto del Carlino Per il faccia a faccia su Ambera Igli resterà in silenzio Ma Igli resterà in silenzio Per il legale il giovane potrebbe avvalersi Della facoltà di non rispondere Allora faccia a faccia Tra Mario Mema e Igli Meta Sul coinvolgimento di Ambera Chi è Ambera L'ex ragazza di Igli Nel delitto di Ismaele Lulli Il giovane 17 anni di Sant'Angelo Invado Per la cui morte avvenuta nel luglio del 2015 Tra due settimane dunque saranno due anni Sono oggi finiti in carcere I due amici e complici La procura però ricorderete di Urbino Ha richiesto dopo un incidente probatorio Dopo che Ambera La ragazza che ha scatenato la gelosia assassina E' finita iscritta nel registro degli indagati Per concorso in omicidio premeditato Al termine della sentenza della Corte d'Assise Che ha condannato Igli all'ergastolo E Mario invece ha 28 anni e 4 mesi di carcere La prima pagina del resto del Carlino E' per la notte rosa Quella che ci sarà a Pesero Sapete che Fano si è smarcata Quindi non parteciperà all'evento Però a Pesero ci sono invece tanti eventi non stop Fino a domenica Si parte domani sera Si potrà ballare fino alle 3 del mattino E i locali resteranno aperti Sulla sicurezza di sposti più controlli Il vetro, quindi bottiglie e quant'altro Sarà vietato Ma la notizia più importante E' sul raduno nazionale Che è in programma a Pesero E che preoccupa non poco la Questura Che raduno si farà a Pesero? Quelli che si battono per il vaccino libero Cioè quelli che non vogliono essere obbligati A vaccinare i propri figli per mandarli a scuola C'è questo raduno E' una richiesta che è arrivata al Comune E alla Questura di Pesero Per organizzarlo appunto sulla libertà di scelta vaccinale Il luogo scelto è il Parco Miralfiore Ed è in programma sabato pomeriggio E insomma sono in arrivo circa 2.000 Forse di più Ma comunque il massimo dei presenti Quello che verrà autorizzato E' di 2.500 persone Ora se saranno di più saranno di meno Questo lo vedremo E questa è la prima pagina del Corriere Adriatico Entriamo dentro Il sindaco anche qua Il sindaco di Sant'Angelo Invado Luzzi Indagato per truffa L'opposizione va all'attacco Luzzi ammette l'inchiesta E dice Ho fiducia nella giustizia Chierirò tutto Ma io Dice lui Non mi dimetto Interpellanza E richiesta urgente del Consiglio Comunale Ora Mostri le carte Alla città La pagina di Fano Gli albergatori Tuonano contro L'uso della tassa di soggiorno Un quinto Non può incamerarlo Aset E manca un progetto Di investimento Alla società partecipata Per la riscossione Vanno 50.000 euro Su un totale Di 250.000 E poi un impianto fotovoltaico Per riscattare il canale Albani Marino rilancia il progetto Dell'Aset Holding Per recuperare il corso d'acqua Un disoccupato Disoccupato si manteneva Con l'emporio della droga C'è stato un blitz della polizia Nel quartiere Vallato a Fano In manette è finito un 42enne Gli hanno sequestrato della marijuana Ashish, cocaina Per 8 etti Nuovi incarichi parrocchiali Con le sinergie di diaconi e laici Il Corriere Adriatico oggi Fa il resoconto di quella che è stata Una indicazione Questa che è stata una lettera Che il Vescovo di Fano Trasarti Ha consegnato ai parroci Da leggere domenica scorsa Ai fedeli Dove ci sono in questa lettera Indicati tutti i trasferimenti Le nuove nomine Eccetera eccetera Quindi Anche il Corriere Adriatico Questa mattina torna Su tutti questi spostamenti Don Sergio per esempio Il parroco di Lucrezia Attualmente a Lucrezia di Cartoceto Torna in Svizzera I frati carmelitani Invece al posto del dimissionario Don Luigi Dalla Valle del Cesano Notte dei Bambini a Marotta Con giochi, sport e solidarietà L'appuntamento è per sabato L'animazione dalle 18 fino alla seconda serata Tutti armati di Ramazza Siamo a San Lorenzo in campo Per ripulire Montalfoglio L'appuntamento dei volontari è per sabato Poi ci sarà una cena di beneficenza Che andrà a favore del centro Margherita Infine la pagina di Senigallia Con la rotonda aperta Fino a mezzanotte Ma sul caffè Lo chef Uliassi Tentenna Abbiamo difficoltà Dice organizzative Lo sfogo sulla rubrica del sindaco Per tre volte Ho trovato chiusa la terrazza E poi a centro pagina La fotografia Auto contro mano Per raggiungere il parcheggio Con questo Chiudiamo qui la nostra segna stampa Grazie per averci seguito Vi auguro una buona giornata Vi ricordo che questa sera Alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci